Giancarlo Carcelleri, candidato al Movimento 5 Stelle, buongiorno. Mi sente e mi vede? Eccoci qui. La sua ricetta per la Sicilia. Ma noi vogliamo investire sul lavoro e sulle imprese e sulla sanità. Un miliardo di euro per investire in cinque anni attraverso un istituto regionale di investimenti sulle imprese, per creare posti di lavoro e finalmente per rilangere la nostra terra che è davvero ferma al palo da vent'anni per effetto di una politica mediocre di chi ci ha governato. Centrodestra e centrosinistra hanno delle grandi responsabilità su quella che è diventata la regione con il tasso di disoccupazione più alto d'Italia, il 22%, mentre fra i giovani il 57% addirittura è il tasso di disoccupazione. Davvero dei dati allarmanti e incredibili che purtroppo fanno fuggire via tutte quelle che sono le nostre menti, i giovani, i neolaureati, che con tanti sacrifici i genitori fanno laureare. Ma sulla sanità le dico anche un'altra cosa. Le liste d'attesa per le visite mediche e gli esami sono davvero troppo lunghe ed è diventato ormai uno stilicidio andare ogni giorno in giro parlando con la gente. Mi raccontano delle storie terribili. Ho preso un impegno ieri con una persona anziana che mi ha raccontato che ha deciso di non curarsi perché nel pubblico non riesce a fare l'esame perché ci vogliono due anni di lista d'attesa. Nel privato le hanno richiesto 300 euro e guadagna 450 euro di pensione. Dico solo una cosa. Riusciamo a dimezzare le liste d'attesa con le nuove assunzioni di medici ed infermieri portando l'orario delle visite dalle 8 alle 23. Ma se un cittadino non riuscirà ad avere una visita medica o un esame nella struttura pubblica sarà la regione a pagargli quella visita nella struttura privata. Per me è un punto d'onore questo e io lo devo a questa persona che mi ha raccontato e lo devo a tutti i siciliani. La salute è un diritto dei cittadini. Non può essere un affare né della politica né anche delle scelte burocratiche. Esiste secondo lei, cancelleri, una questione meridionale? Esiste la dimenticanza dello Stato nei confronti delle regioni del Sud e nei confronti soprattutto della Sicilia. Io incontrando i vertici delle due grandi aziende di Stato, Anas e Rete Ferroviaria Italiana, ho trasmesso loro l'esigenza di non voler essere più trattati come cittadini di serie B e di pretendere in qualche modo che avvengano nella nostra terra gli stessi investimenti e si realizzino le stesse opere che hanno realizzato nelle altre regioni d'Italia. Non vogliamo essere trattati in maniera diversa, né in più né in meno, allo stesso modo. Questa cosa ovviamente deve anche fare il paio con una buona qualità della politica regionale che ahimè purtroppo in questi 20 anni ha prodotto soltanto disastri invece. Ripeto, il centro-destra e il centro-sinistra all'interno della nostra regione hanno creato soltanto disastri, hanno distrutto la sanità pubblica, hanno distrutto la possibilità di welfare, dei servizi sociali, non hanno dato possibilità alle aziende private e al lavoro, ma soprattutto non hanno costruito le nuove infrastrutture che ci servivano. E questo purtroppo sono i danni che hanno creato e oggi paradossalmente quelle stesse persone che quei danni li hanno creati invece vanno e si stanno ripresentando per risolvere i problemi che loro stessi hanno creato, è davvero incredibile. L'uomo che a lei ha indicato come suo assessore ai rifiuti in caso di vittoria sul web, si chiama Angelo Parisi, in un tweet ha scritto di voler bruciare vivo il capogruppo del PD Ettore Rosato. Il tweet è stato cancellato, però lei ha detto che lo confermerà questo suo assessore in caso di elezione. Insomma, le sembra giusto, le sembra corretto che si scriva che si voglia... Rosato, facciamo un patto, se questa legge sarà accassata dalla consulta noi ti bruceremo vivo, ok? Non le sembra un po' forte come affermazione? Perché non le sembra, diciamo così, complicato che una persona così possa fare l'assessore? Ho condannato quelle parole e ho immediatamente chiamato Angelo Parisi per chiedergli di cancellare e di scusarsi. E Angelo Parisi ha cancellato quel tweet... Ma come gli è venuto in mente però di scrivere e di minacciare fisicamente un avversario politico, secondo lei? Ma io questo non lo so, io le sto dicendo soltanto che il diretto interessato si è scusato con Rosato. Per me la partita è chiusa. Io le vorrei chiedere invece come è possibile che questa attenzione rispetto a questo tema non sia balzata davanti a tutti gli insulti che ad esempio io ho ricevuto in questa campagna elettorale da parte di Nello Musumeci, che ha detto che sono come l'AIDS, che ha detto che sono un vampiro che mi nutro di sangue umana, che ha detto che sono un gialtrone e in ultimo ha detto anche che sono un imbecille. Però non c'è stata mai nessuna levata di scudi. Evidentemente, evidentemente dico forse io conto magari un po' meno di Ettore Rosato. Io condanno quelle parole di Parisi e lo dico pubblicamente, ma condanno anche le parole di Nello Musumeci nei miei confronti e vorrei che da oggi ci fosse il rispetto di tutti nei confronti di tutti. Quello ce l'auguriamo tutti. Ci mancherebbe ovvio però cancellare che lei appartiene ad un movimento che è partito con un vaffa dei. Quindi diciamo che da questo punto di vista il Movimento 5 Stelle tiene molto alti sempre i toni della polemica politica, anche con l'uso di un insulto, qual era il vaffa, no? Ma guardi, io in Sicilia sto facendo una campagna elettorale che non è partita oggi, ma è partita cinque anni fa, quando siamo entrati in Parlamento regionale. Che ha fatto dello stile, della buona educazione e anche dei buoni rapporti, non solo con la stampa siciliana, che fra l'altro ringrazio per la puntualità che ha sempre nel raccontare i fatti e nella buona qualità delle notizie che dà anche. Meno male che per una volta noi giornalisti siamo assolti da un espanente cinque stelle. No, per carità, io parlo della stampa siciliana che è davvero incredibile, vive anche di estreme differenze con la stampa nazionale, per carità. Ho fatto comunque della buona educazione e dello stile il mio biglietto da visita, ed è per questo che stiamo convincendo sempre più siciliani che davvero siamo l'unica alternativa credibile a quello che è stato lo sfascio rappresentato dai partiti. Oggi ci candidiamo a governare questa regione, e io spero che il 5 novembre i cittadini siciliani ci diano questa responsabilità per poter andare a governare. Senta, le faccio vedere una clip che risale al 2014, perché una delle accuse che vi rivolgono è di parlare pochissimo di mafia, anzi prima le faccio questa domanda, è di parlare poco di mafia. Come risponde? Guardi, io sono il primo firmatario di un emendamento che nel 2015 prevedeva l'abolizione dei vitalizi per chi si era macchiato di reati inerenti alla mafia. 416 bis, ter, mi riferisco a personaggi come Toto Cuffaro, come altri che hanno fatto i parlamentari regionali che prendono il vitalizio alla regione. I partiti, tutti i partiti, nessuno escluso, in Parlamento siciliano, hanno votato contro. Ora, io di mafia magari parlo poco, ma agisco moltissimo contro la mafia. Vi faccio vedere Grillo, segno. Esatto, erano proprio le parole di Beppe Grillo. Era il 27 ottobre del 2014, l'abbiamo recuperata questa clip perché? Perché le parole di Beppe Grillo venivano pronunciate di fronte al Palazzo dei Normanni per lo sfiducia dei e si parlava, per l'appunto, di mafia. Sentite. Allora, allora che cos'è? La mafia è stata corrotta. È stata corrotta dalla finanza. La mafia non metteva bombe nei musei o uccideva i bambini nell'acido. La mafia aveva una sua morale, chiamiamola una sua morale. Non c'è più niente. È stata corrotta da dentro, dalla finanza, dai soldi, dalle multinazionali, dagli affari. E dov'è oggi? Cos'è oggi un'associazione a delinquere? Ditemi che cos'è un'associazione a delinquere. È sciolto un comune per l'associazione a delinquere. Da chi è formata l'associazione a delinquere? Un uomo d'affari? Un politico? Un banchiere? Un notaio? Un commercialista? Un poliziotto? E un magistrato? A volte non c'è neanche il delinquente nell'associazione a delinquere. Non c'è dubbio che quelle parole, fra l'altro datate, ripercorrono poi un concetto che davvero vuol dire che in qualche modo la mafia si è trasformata. Non è più quella di Don Pippo, è diventata quella invece dei colletti bianchi, di quelli che parlano tre, quattro lingue, e di quelli che entrano dentro i palazzi del potere o addirittura che fanno finanza. Io le dico una cosa, che in questa campagna elettorale purtroppo la mafia è stata sventolata come un argomento da mettere all'interno dei programmi elettorali. Io le dico invece che dovrebbe appartenere alla genetica e al DNA di ogni siciliano. Io nel 2010 sono sceso in piazza e insieme ad alcuni cittadini abbiamo fondato un movimento che si chiama Scorta Civica per difendere i giudici e i magistrati che sono stati minacciati dalla mafia. Questo perché volevamo in qualche modo la rappresa doveva alzare la testa e che senza fare nulla, ma semplicemente portando la propria solidarietà, doveva stare vicino a quello che noi abbiamo definito i nostri eroi vivi. Perché in qualche modo ci siamo anche stancati di commemorare. Dobbiamo cominciare anche ad avere il coraggio di supportare quelle che sono le persone che oggi stanno combattendo contro la mafia. Quando mi vedo proprio Claudio Fava dire che noi non parliamo di mafia, dico io ci rimango un po' male perché proprio nel 2010 Claudio Fava premiò me, Giancarlo Cancelleri, con il premio Pippo Fava per l'impegno civile a Roseto degli Abruzzi. Forse se ne sarà dimenticato però. Glielo ricordiamo perché lo avremo ospite tra poco. Grazie a Giancarlo Cancelleri, veramente in bocca al lupo per la campagna elettorale, in bocca al lupo a tutti i siciliani. Viva il lupo, grazie. Viva il lupo. Risposta ecologista del candidato di 5 Stelle.